La parola d'ordine è solo una, reagire. Dopo il K.O. contro la Cittadella, il Palermo torna in campo per proseguire la corsa verso la Serie A. Una sfida ostica e difficile contro l'Avellino, riduce dal pareggio della settimana scorsa contro il Frosinone. Il Palermo è una squadra che tutti preparano la partita della vita, su certi aspetti succede con tutti, succederà anche ad Avellino, dove troveremo una squadra fortissima dal punto di vista caratteriale e quindi questo è davvero un esame importante per la squadra perché troverò una squadra che probabilmente di tutte quelle che ci sono in questo girone è la squadra che ha più, diciamo, come si può dire, non dico carattere, però è una squadra che è abituata a vivere le difficoltà in maniera eccellente. Quindi nel corso della partita ha avuto qualche difficoltà e si è sempre rialzata, ha sempre lottato ed è una squadra sicuramente molto difficile da trovare, però proprio per questo motivo, siccome gli esami sono difficili domani, l'esame è difficile da questo punto di vista, vedremo noi che siamo usciti da questa, diciamo, partita in colore e vedere subito di che pasta siamo fatti, domani non vedo l'ora di giocarla questa partita per capire quanto dentro abbiamo di fame ma soprattutto di dignità. L'allenatore Rosanero perte per infortunio Monachello, calcio d'inizio alle ore 15, arbitrerà Nasca di Bari con una sola parola d'ordine, reagire. L'allenatore Rosanero